Fosso Grande, una bomba d'orologeria tra le case della gente. Questa è la nuova denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che questa mattina nel corso di una conferenza stampa, assieme ad alcuni esponenti del Comitato per la Sicurezza Fosso Grande, ha dichiarato che per inerzia e confusione di Regione Abruzzo e Comune di Pescara, il rischio di nuove esondazioni del fiume, dopo quelle disastrose del 2013 e del 2019, sono dietro l'angolo in caso di nuove abbondanti precipitazioni. Sì, tutti ricorderanno le esondazioni del 2013 e il 2019, soprattutto il 2013, una bomba d'acqua che ha provocato danni ingenti ai privati cittadini e alle imprese, oltre 6, 7, 8 milioni di euro, possiamo immaginare. Noi siamo qui tornati con il Comitato COMES, il Comitato per la Messa in Sicurezza di Fosso Grande, per chiedere interventi strutturali a Regione Abruzzo. Sono stati fatti tanti pagliativi, io dal 2014 mi occupo di questa cosa, ho presentato interpellanze, interrogazioni, risoluzioni in Consiglio regionale per chiedere fondi certi per gli interventi strutturali, ad oggi quegli interventi non sono stati realizzati. Che cosa intendo? Dei salti idraulici a monte del Ponticello di Via Francia, una vasca di espansione a valle per cercare di mitigare l'impeto delle acque. è l'unica cosa che potrebbe risolvere definitivamente. Purtroppo sono stati gettati dei soldi, sono stati spesi centinaia di migliaia di euro per fare delle opere pagliative, possiamo dire, che non hanno risolto il problema, a seguito delle quali il Fosso ha continuato ad esondare. La Regione ha stanziato solo 60 mila euro, adesso non bastano, servono 800 mila euro, quindi si faccia presto. Il Comitato di Fosso Grande chiede non solo manutenzione ordinaria, ma opere strutturali per mettere in sicurezza la zona di Fosso Grande. Indubbiamente, perché i lavori che sono stati fatti nel 2016 con una spesa di 600 mila euro per il gabbionamento delle sponde, la messa in sicurezza, sono rivelati del tutto insufficiente, visto che tra l'altro nel 2017 l'Arigine è franato proprio in prossimità del percorso del circuito ciclistico del ponticello di Via Francia. Noi ribadiamo il concetto e fondamentalmente quello che ci interessa è che l'acqua non arrivi verso il canale scatolare di Viale Abruzzo, ma venga imbrigliato prima da salti idraulici a monte del ponticello di Via Francia della vasca di espansione famosa nel comparto C1 del piano particolare regionale di zona del Comune di Spoltone, che è vingolato al parco pubblico. Quindi spieghiamo l'implementazione, la realizzazione di un laghetto degli ettari necessari alla bisogna, che in caso di allertamento poi si trasforma in una vasca di espansione.